Naturalmente adesso l'emergenza, io ho risentito il direttore pure questa mattina, sono i richiami. I richiami che per chi ha fatto Pfizer, inizialmente era stato detto tra il 21esimo e il 28esimo giorno, io ieri sera ho fatto pure comunque un comunicato qui ai cittadini di Sant'Egidio, insomma i 28 giorni sono stati prorogati fino al 42esimo giorno. Quindi richiamo, tanto per tranquillizzare comunque i cittadini, non ci sono problemi, possono arrivare tranquillamente al 42esimo giorno. Chi ha fatto Pfizer, per chi invece ha fatto AstraZeneca, il richiamo può essere fatto entro 12 settimane, quindi parliamo quasi di tre mesi. Qualche disservizio c'è stato, dico pure, insomma ce la stanno mettendo tutta, hanno lavorato anche il primo maggio, il giorno dopo, domenica, insomma fanno vaccini a tamburo battente. Però è chiaro che anche questo problema della piattaforma bruzzese con vostre italiane ha creato qualche problema. Adesso un po' di pazienza, insomma ieri dottor Brucchi si è preso l'impegno che per i prossimi giorni ci saranno anche migliori servizi, quello che diceva lei riguardo anche delle carrozzine, perché lì arriva anche gente disabile che viene giù al centro di vaccinazione e deve essere trasportata. Lui ci ha assicurato questo, io spero, anche stamattina ho sentito che ci sono delle file, ma insomma speriamo che si vada avanti e che, niente, la raccomandazione è quella di continuare a iscriversi. Ci ha dato anche un'ottima notizia che per gli ultraottantenni, dove c'era all'inizio un po' di scetticismo, insomma i conti nel Terramanos sono vaccinati l'88% degli anziani.